Ciao amici, bentornati in un gioco divertente, bello, divertente e bello Adesso andiamo a farmare un po' la MN Anna Si sta evolvendo Sanjury Ma che bellino Ok, ora che ho farmato tutti gli allenatori mi sono divertito tanto Affrontiamo Gary Affrontiamo Gary Così poi possiamo andare dal capitano più forte di tutti Perché devo ancora riuscire a capire come un capitano della nave Ecco, si è diventato capitano Con il mal di mare Questa è un'incognita che mi porto dietro da quando ho tipo 8 anni E quindi cercheremo di capirlo Ciao tizio Sam Noi siamo riusciti a risolvere il mal di mare di questo tizio Facendogli un massaggio Ok Questo gioco è proprio pensato da intellettuali d'alto rango Devo dire Bene, è arrivato il momento di renderti utile È l'Uogultemente Surge Dai fammi vedere le tue mosse Wow Un vero potente mezzo Tanto però poi ti becco e ti faccio male Appunto Ho rotto la minchia a sto cazzo di statico Fottiti Dai dai, vi state divertendo anche voi Proprio lo sento dai vostri commenti Anzi Adesso in via del tutto eccezionale Leggerò i commenti che mi sono piaciuti di più Allora, vediamo un po' Minchia Non ci siete stati per più di quanto mio padre è stato via dicendo che andava a prendere le sigarette Allora La verità è che io sono tuo padre Ma non te l'ho voluto dire per non scombusolarti la vita Poi il simpatico Tricheco Lagante mi ha chiesto di penumbra Perché insomma è una cosa importante Del resto non potevate vivere senza Praticamente penumbra uscirà quando Quando i pianeti si allineeranno con 54e Perché altrimenti non va bene Praticamente Dovrete anche sacrificare un capretto al demonio Io sono 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 eronia Io sono demonio Io sono demonio Io sono demonio Io sono E poi magicamente Penumbra vi comparirà sul pc Però state attenti Perché se sbagliate Anche uno solo di questi passaggi Perché del resto lo sanno tutti Che può capitare Che sbagliate il timing Dell'allineamento dei pianeti E quindi se sbagliate morirete E quindi io non mi assumo nessuna responsabilità Ai danni che farete a voi stessi Quindi non rompete i coglioni Non mandatemi il moige a casa Perché sarebbe un problemino E onestamente di rottura di coglioni Ne ho già abbastanza senza di voi Poi ieri ne avevo letto uno bellissimo di commento Ma sono stupido E non me lo ricordo più Allora Occhio che Masuda potrebbe infilarsi Dentro il bagagliaio della tua macchina nudo Armato con un piede di porco Pronto ad aggredirti ogni qualvolta Insulti alla prima generazione Pokémon Ah no aspetta Mi sono confuso con un altro asiatico Dai che fra un po' esce un altro spin off Sempre prima generazione Come se non avessimo abbastanza giochi di prima generazione Ecco Tu sarai il primo a ritrovarti Masuda nudo sotto a casa Io te l'avevo detto Ti avevo avvertito Ma come al solito Nessuno mi da retta E poi succedono le cose Non perdiamoci d'animo E continuiamo con questo gioco molto divertente Perché veramente mi sto Ammazzando dalle risate Questo gioco regala emozioni incredibili Se non fosse per questo gioco Io probabilmente non sarei neanche in vita Voglio dire Vuoi mettere una vita senza Pokémon Rosso e blu Verde Questi qua Dai Ma dai Ok signori Noi non abbiamo Flash Però siccome io faccio i Magueji Allora io vi voglio ricordare Che questo gioco è pensato talmente bene Che Pokémon come Geridos Sono palesemente dei fottuti draghi O comunque Che cazzo c'entrano con i Pokémon volanti Sono di tipo volante Oh Siamo arrivati alla città dei morti Adesso Metterò un simpatico remix Così potrò allietare anche voi Insomma la vostra giornata Ecco Però prima di tutto Non mi ricordo quale casa fosse Perfetto Avevo due possibilità e l'ho sbagliata Perché ovviamente sono io Si va a cambiare il nome di Geridos E la chiameremo Devo dire che calza a pennello Bene direi che andiamo a catturare Il nostro Pokémon di tipo fuoco Bene Solo dopo 25 minuti di Bail Sprout e Pidgey Direi che ce l'abbiamo eh Non fate commenti Allora tanto sappiamo già Che questo mi serve Oh Bene 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 Devo dire che sarà proprio Ehm Divertente Giocare con questa E mosse Sì Bene Quindi adesso si farà una cosa Molto simpatica Ovvero Si andrà a farmare Come dei pezzi di merda Raga Allenare Vulpix è divertente Ah basta Con sto veleno gas Cristo Dun Dio Io però mi immagino I Rocket che lavorano qui Ogni volta che devono presentarsi A lavoro Ehm Andiamo a farci le montagne russe Ogni volta Beh è con immenso orgoglio Che voglio presentarvi Il dipendente Più Più bravo Insomma Più sul pezzo Più meritevole Di tutto Team Rocket Ovvero Questo individuo Che Praticamente Ha fatto cadere La chiave Completamente a caso Subito dopo Che l'abbiamo sconfitto Perché Non lo so Però Anche questo mese Sarai Premiato E ci sarà la tua bella faccia Uguale a tutte le altre Del Team Rocket Ehm Su Sono nell'ufficio del capo Quindi Complimenti Complimenti Oh Queste sono le mosse Che ci servono Oh Proprio esclusiva Ma vai a fare Nel culo Ehi guarda Un cancro Oh no Adesso ci sarà Eh come si dice Buried Live Dead End Come cazzo si chiama No Eh no Ma Gary E' lì Perché Praticamente Gli ha morto Raticate Ehm Non è che Per caso L'abbia potuto mettere In un box Perché Effettivamente Si è reso conto Che Quanto faccia Cagare Quel Pokémon E quindi Sia qui per catturare Le Cubone No 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 Meglio Meglio Sparare cagate No no Sono possedute Dai mostri Ah Eh no Ma il Pokémon Di tipo terra Ce l'ho Cazzo Altrimenti l'avrei preso Wow Addirittura Vuoi imparare Full misguardo Ti prego Non farmi troppo paura Perché davvero Io Non ce la posso fare Ehm Un altro Cubone Ma mi pigli Per il culo Credo che questo gioco Mi stia odiando No Non me lo dimenticherò Neanch'io Sicuramente Non te la caverai Oh no Me la sono appena Cavata Non sottovalutare Il potere Femminile Sì Perché Quegli intelligentoni Di Game Freak Ovviamente Hanno fatto il remake Hanno aggiunto La ragazza come scelta Però ovviamente I dialoghi Sono rimasti A quelli Di Spera 2004 Di dieci anni prima Quando non c'era ancora La possibilità Di scegliere La bambina Ottimo lavoro Game Freak Ottimo lavoro Sempre sul pezzo Devo dire Bravi Così vi voglio Ricordiamoci dunque Che la prima gen È sempre quella Fatta meglio Perché Naturalmente Non si può Assolutamente Dire il contrario America Come va la vita Oh no Whipping bello Una victory Manco di leggere So più Wow Wow È stato proprio Entusiasmante Non sono dovuto Impegnare Tantissimo Oh Sì Wow E poi ci lamentiamo Di Pokémon Sole e Luna Io comunque Eevee Lo piglio Poi Vediamo Credo che le battute Si sprechino Per questo Pokémon Come on